Bugie e preghiere, Miss Locke. Bugie e preghiere. Sa chi servono. Servono ai sani, non ai malati. Servono ai sani per sentirsi meglio. Arrivederci, Miss Locke. Conosce la strada, vero? La donzella disorientata si perde nel labirinto. E che cosa c'è in fondo al labirinto? Nessuno lo sa. Nessuno è mai tornato per raccontarlo.